Anche la musica quindi? Avete anche un nido per bambini? Il nido che alleva la pace, noi pensiamo che noi oramai siamo una società dove ci sono bambini di tutti i colori, di tutte le nazionalità e noi pensiamo che i bambini, già da bambini, possono diventare maestri di pace per i loro genitori. I genitori che nei loro paesi non conoscevano la pace, la nostra speranza è che il nido che alleva la pace possa dare un contributo. Ho visto, ho visitato...